Poi vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po' assente dai social, ma non lo so, questa gravidanza mi ha preso un po' così. Mi voglio tenere un po' di cosine per me, mi sento più serena così, mi sembra quasi di custodire un po' la mia gravidanza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipattica, ma sono un po' gelosa della mia gravidanza. Questo mi sta accadendo. Quindi niente, manca poco, io sto bene, sono un po' stanca perché sto arrivando alla fine di tutto questo lungo viaggio. Manca meno di un mese e non vedo... Quindi, come vi dicevo, non vedo l'ora di vedere l'unita, non vedo l'ora di condividerla con voi. Penso che questo sia in assoluto il momento più bello di una donna, partorire. Cioè, insomma, non tanto il parto, ma dare a luce un figlio. E quindi, niente, intanto io qualche fotina la posto, ogni tanto, vivendo un bacio gigantesco. Vado a fare pilates, cosa che non ho mai smesso. Tutta la gravidanza a fare pilates. Questo è un bel tip, allenarsi in gravidanza. Fa veramente tanto bene. Ciao!